Mi chiamo Julie Ammonie. Questa è la mia prima fidanzatina e questo è il mio primo bacio. Per tutte le mie donne sono il gatto nero, lo specchio rotto il venerdì 17. Ciao, come va? Vattene via, non mi toccare! È una reazione allergica alla tua saliva. Credo stia dicendo che tra voi è finita. Ormai avevo gettato la spugna, finché un giorno non decisi di darmi un'ultima, un'ultimissima possibilità. Oggi è il mio giorno fortunato. Davvero? Le cose cambiano. Io detesto perdere. Sì, allora stommi alla larga! Questa volta doveva essere diverso. Attenzione! Tenevo che ti accoltellasse. Sei il capita. Ah sì? D'oggi e poi? Fa' attenzione. È solo un periodo sfortunato tutto qui. Ho scelto lei per la creazione di questa auto elettrica. Domani mi raccomando puntuale col cliente. Ora che ho l'appuntamento più importante della mia vita, mi faccio a scaletta. Questa giovane è ambiziosa. Lavora con lei? Eh, no. Da quanto tempo hai iniziato ad avere questa enorme sfortuna? Pensaci bene. Ho un'altra proposta con un'altra citante. Design. Oh, i miei disegni! Quando è troppo e troppo, tra noi è finita! La maledizione è scomparsa! Julian, che ci fai qui? È finita. La storia della sfortuna. Ah sì? E come faccio a saperlo? Così. Sto benissimo. Lo sapevo. Siamo liberi. Che succede? Sei allergica alle ostriche? Che io sappia, no? Che succede? Che succede? Che succede?